In controtendenza l'agricoltura è uno dei pochi settori in cui i giovani occupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19.000 unità rispetto a prima della pandemia. E' quanto afferma la Coldiretti. In piena pandemia è infatti cresciuto il numero dei giovani imprenditori agricoli con un incremento dell'8% in questi ultimi 5 anni. E questo è in netta controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia. La pandemia dunque ha accelerato il fenomeno del ritorno alla terra ma ha anche maturato la convinzione comune che le campagne siano oggi capaci di offrire e creare opportunità di occupazione e di crescita, peraltro destinate ad aumentare nel tempo. Occorre dunque sostenere il sogno imprenditoriale di una parte importante della nostra generazione che mai, come adesso, vuole investire il proprio futuro nelle campagne abbattendo gli ostacoli burocratici che troppo spesso si frappongono. E nonostante le criticità, le imprese non si sono mai fermate e l'agricoltura piemontese ha bisogno di nuova linfa che proprio le giovani generazioni sanno portare grazie a delle idee fresche che nascono da esigenze, da sperimentazioni ma che sanno anche concretizzarsi in vere progettualità.